Bene, oggi è il 10 settembre 2019, mi trovo in via Mazzini numero 18 a Castel Belforti, in provincia di Mantova e questa è la prova penetrometrica dinamica che appunto sto facendo per la realizzazione di un nuovo garage presso questo lotto. Il terreno si presenta nei primi metri, una sabbia poco densata. Proseguiamo con l'indagine e dopo aver fatto anche le indagini sismiche.